Torna all'Aquila la fortunata rassegna i cantieri dell'immaginario sotto la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis. Spettacoli di musica, teatro e danza nel cuore della città dal 7 al 26 luglio ad aprire ufficialmente gli eventi dell'estate aquilana con il coinvolgimento di tutte le istituzioni culturali a partire dal TSA per il quale era presente la vicepresidente Rita Centofanti. Più di 30 spettacoli, più i laboratori di assoluto valore e prestigio che vanno dall'apertura con Giorgio Pasotti in Pulcinella passando per altri spettacoli con artisti del calibro di Elio, Samuele e Berzani con il gran concerto alla scalinata di San Bernardino il 26 luglio Ugo Pagliai, Lino Guanciali, Emerk Usturiza, Ettore Bassi, Icoma Cose, Rivelazione di Sanremo e altri artisti del panorama locale non solo. Un programma a 360 gradi che ben rappresenta una città che vive di cultura. La quarta edizione dei cantieri è l'evoluzione di un progetto, l'interazione con la città è fondamentale. È una città di cultura, l'Aquila, quindi più avviene l'interazione e più il prodotto acquista un valore. È internazionale, è 25-20 giorni di programmazione denso, di cultura, di spettacoli, di vari strati trasversali e quindi c'è veramente da venire in città, all'Aquila. Le location spaziano dalla scalinata di San Bernardino e questa è la novità di quest'anno più significativa. L'editorium del parco, passando per la basilica di San Bernardino, ci saranno sia spettacoli gratuiti che a pagamento con prenotazione necessaria e stampa del biglietto dal sito dei cantieri dell'immaginario rispettando le normative anti-Covid. Riesce ad assicurare degli eventi importanti e degli eventi scritti per l'Aquila, non sono acquisti in franchising di produzioni nella maggior parte dei casi. Apriamo con Pasotti sulle musiche di Stravischi, chiudiamo con la musica cosiddetta leggera di Samuale Bersani, uno dei cantatori migliori in assoluto della scena italiana, sicuramente uno dei migliori della sua generazione. In mezzo c'è letteratura in scena, c'è teatro, ci sono attività per i più piccoli, ci sono artisti internazionali come Custurizza, c'è un straordinario interprete come Arturo Brachetti, ci sono insomma tante cose, ci sono anche concerti per i più giovani in una mix secondo me molto interessante.